Mareneo Mazzarese 0 a 0, un punto importante, sofferto, ma che alla fine potevano essere anche tre. Mister, diamo una lettura a questa gara. Sì, dici bene, i ragazzi oggi sono stati bravi a fare una partita di sofferenza, nel senso di fronte abbiamo incontrato, devo fare faccia e complimenti alla formazione avversaria, perché sul piano del palleggio ci hanno messo sotto per lunghi tratti, però i ragazzi sono stati bravi anche a fare questo tipo di partita, ed è un bel segnale per quanto mi riguarda. Poi, come dici tu, sul finale abbiamo avuto una palla che poteva rendere questa giornata ancora più bella, ma va bene così, ci portiamo a casa questo risultato positivo che sicuramente sarà utile per il futuro. Mister, l'ingresso di Fuschi e Mondino hanno dato un po' di vivacità all'attacco, tuttavia è sembrato che questa squadra, anche a centro campo, avesse qualche difficoltà nella costruzione, ovviamente merito anche della Mazzarese. Sì, l'analisi è corretta. Abbiamo avuto difficoltà oggi nella costruzione, ma sicuramente è stata conseguenza del fatto che di fronte avevamo un centro campo importante che non ci ha consentito di cercare di fare quello su cui lavoriamo durante la settimana. Però, ripeto, le squadre si vedono anche quando riescono a portare il risultato non facendo mai il tipo di partita che si auguravano, facendone un'altra, una gara di sofferenza e portare a casa il risultato è stato un bel segnale. E poi Maggio che comunque è la sala cinesca di questa difesa. Sì, il capitano Maggio e la Min, oggi il protagonista, ha fatto due interventi veramente importanti. Ma tutti i ragazzi si sono impegnati, hanno sudato fino all'ultima goccia e sono contento anche per loro. In bocca a lui. Siamo con mister Ignazio Chianetta, una partita giocata alla Garibaldina, avete sfiorato più volte il gol, poi alla fine addirittura avete rischiato di perdere, di subire il vantaggio del Marineo. Che chiave di lettura abbiamo per una gara che sicuramente vi ha visto protagonisti, ma che è comunque sterile in attacco e non ha prototto i tre punti? Sì, 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 ma hai fatto una disamina attenta. Purtroppo abbiamo creato, soprattutto nel secondo tempo, 6-7 palle e gol e non abbiamo finalizzato. Quando tu non finalizzi rischi anche di perderle queste partite. Stava accadendo, fortunatamente non è accaduto. Dico che non mi è piaciuto il primo tempo, perché secondo me abbiamo regalato un tempo per capire un attimino alcune dinamiche degli avversari e così non va. E soprattutto poi sotto porta potevamo essere molto più cattivi e non lo siamo. Vero è che avevamo qualche assenza importante, lo stesso Davide Testa e Mistretta che è entrato negli ultimi dieci minuti ma non sta bene. Abbiamo rischiato proprio per cercare di portare a casa i tre punti, però è andata così. Ce ne faremo una ragione e andiamo avanti. Comunque, anche visto come avete giocato con il Miss Ilmeri nella partita di Miss Ilmeri alla prima giornata, io ho visto una squadra un po' più pimpante, ma probabilmente lì davanti avete qualche problema nella realizzazione. Tra l'altro ho visto che comunque qualche cambio si poteva fare anche prima. Sì, sì, ma io sui cambi non è che avevo là davanti grosse alternative. Dunque, poi per il resto i ragazzi hanno giocato. Non posso dire nulla. La squadra ha giocato e ha giocato pure bene, soprattutto nel secondo tempo. Dispiace, perché dal mio punto di vista bisognava essere un attimino più cattivi sotto porta, però andiamo avanti, non abbiamo alternativa. In bocca al lupo. Crepe il lupo.